Musica Pronto! Ok, dunque, è importantissimo posizionare il nostro prodotto nel posto giusto. Segui le mie indicazioni. Metti il prodotto davanti a te ad altezza mani. Però se ad altezza mani ci sono dei prodotti simili per tipologia e qualità, spostalo sopra. Ti dirò perché. Se trovi un competitor in promozione, tu deciso vai a livello viso, ma escludilo se i prodotti vicini hanno un packaging di colore rosso. Dobbiamo cercare di collocarci vicino. Ah, mi raccomando, stai lontano dai prodotti a scatola blu. In quella zona del frigo di solito si forma condensa. Mi raccomando, se hai dei dubbi mettici nella mensola sopra. ci fossero delle scatole rettangolari poco più alte della Mausano e punta in alto, punta in alto. Se hai posizionato il nostro prodotto seguendo queste poche regole dovremmo aver finito. soddisfatto? Differenti punti di vista? Quando sei costretto a lavorare troppo di fantasia, il risultato potrebbe essere un incubo. Per questo Amadori ha scelto di agevolare i propri collaboratori con la tecnologia Jabber di Cisco, un sistema che integra chat, chiamate voce e video e desktop collaboration. Jabber è facile e veloce. Cerchi le persone nella rubrica aziendale e collabori utilizzando il metodo o il dispositivo preferito ovunque ti trovi. Nessuno dovrà più lavorare di fantasia perché potrai mostrare quello che fai, mentre lo fai risparmiandoti fatica e salti mortali. Vem Sistemi e Amadori. Smart Working for Smart People.